Musica Nei giorni scorsi se n'è andato Luciano Moretti, per 30 anni vice caporedattore dell'ufficio stampa del Consiglio regionale dell'Umbria. Un collega brillante, arguto e misurato. E un caro amico, sempre attento al lavoro di noi suoi ex colleghi, prodigo di incoraggiamenti e di consigli. Luciano avviò le prime produzioni di informazione televisiva del Consiglio regionale. È una sua creatura la trasmissione a microfoni aperti, da lui condotta, e che per anni ha raccontato l'attività di Palazzo Cesaroni attraverso i protagonisti politico-istituzionali. Ecco, vogliamo ricordare il nostro collega ed amico con quelle immagini. Dall'aula del Consiglio regionale di Palazzo Cesaroni, un nuovo confronto maggioranza-minoranza, come sempre ha microfoni aperti. Vedete, queste trasmissioni servono anche a sfatare certi luoghi comuni. Cambia scenario, domande delle cento pistole. È un colpo basso, ma questo, come diceva insomma quel autorevolissimo giornalista, è il bello della diretta. Grazie, arrivederci. Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, via libera dall'aula di Palazzo Cesaroni, all'assestamento di bilancio 2017 della Regione, il no delle opposizioni. Vediamo. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 13 voti favorevoli della maggioranza, Partito Democratico, Socialisti, Misto MDP, e cinque contrari dell'opposizione, Movimento 5 Stelle, Lega Nord e il gruppo Ricci Presidente, l'assestamento di bilancio 2017 della Regione. L'aula ha approvato tutti gli ordini del giorno presentati, due emendamenti della Giunta, un emendamento dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dell'Assemblea legislativa. Non sono stati invece approvati gli emendamenti proposti da Raffaele Nevi di Forza Italia e da Manuele Fiorini e Valerio Mancini della Lega Nord. La manovra monta oltre 8 milioni e 500 mila euro. L'assestamento 2017 è caratterizzato da una razionalizzazione delle risorse e dal contenimento della spesa. Il disavanzo 2016 si riduce di 500 mila euro. Nell'assestamento 2017 sono state finanziate solo spese urgenti e indifferibili per i servizi essenziali e competenze centrali della Regione. In particolare 1 milione e 950 mila euro riguarda gli accantonamenti obbligatori. 650 mila euro a cultura, spettacolo, turismo, sport e grandi eventi. 450 mila euro sono destinati ad agricoltura e foreste. 4 milioni e 330 mila euro ai servizi per la mobilità e per il trasporto pubblico locale. 80 mila euro per la protezione civile. 150 mila euro per ciascuno degli anni 2017-18-19 per il contributo all'Istituto Musicale Bricialdi di Terni. 150 mila euro per l'integrazione del Fondo Programmi di Sviluppo Umbria. 400 mila euro per adeguamento dello stanziamento a favore dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi. 450 mila euro al sociale. Il finanziamento di questi interventi viene assicurato sia attraverso l'utilizzo di economie di spesa, in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui o prestiti non ancora contratti, e sia mediante rimodulazione di stanziamenti, riallocazione e riorientamento delle risorse. Il provvedimento contiene inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2017 della riduzione del 10% dei compensi ai componenti di consigli di amministrazione e organi collegiali di enti ed agenzie regionali, prevista anche una durata fino a 35 anni delle concessioni per l'utilizzo dei beni delle aree industriali di Maratta, Terni e San Giacomo di Spoleto, acquisate dalla Regione dal Consorzio TNS. Lavoratori della ex Pozzi di Spoleto sono stati ricevuti a Palazzo Cesaroni prima dell'inizio della seduta consigliare dello scorso martedì dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porzi e dall'assessore regionale allo sviluppo economico Fabio Paparelli, presente all'incontro anche il dirigente regionale Luigi Rossetti. Assicurata la massima attenzione istituzionale, previsto per a settembre un nuovo incontro per fare nuovamente il punto della situazione e quindi un aggiornamento rispetto alle manifestazioni di interesse e di trattative in corso alla presenza dello stesso curatore fallimentare. Approvate le linee guida per la programmazione scolastica e l'offerta formativa nel triennio 2018-2020. Si della maggioranza astenzione delle opposizioni. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza le linee guida proposte dalla Giunta regionale sulla programmazione della rete scolastica e sull'offerta formativa per il triennio 2018-2020. La programmazione della rete scolastica resta vincolata a quanto disposto dal Decreto Legislativo 98-2011. Non saranno assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo determinato se il numero di alunni è inferiore alle 600 unità, limite ridotto a 400 per i comuni montani. Tutte le proposte di mantenimento dell'autonomia scolastica con un numero inferiore a 600 o 400 dovranno essere debitamente motivate dalle province nel relativo piano annuale. Per quanto attiene all'offerta formativa si conferma il modello organizzativo verticale relativo agli istituti comprensivi statali, composti da scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Negli istituti superiori nuovi indirizzi di studio aggiuntivi potranno essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio. Le due province devono raccordarsi per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini. Licei musicali o sportivi per i quali occorre il parere preventivo dell'ufficio scolastico regionale devono garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo. Per quanto riguarda infine il liceo con opzione internazionale non si potrà procedere all'attivazione perché non è stato ancora stabilito a livello di ministero il relativo iter procedimentale. Fare piena luce sulla vicenda del piccolo carro è quanto emerso dalla conferenza stampa organizzata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari a Palazzo Cesaroni sul tema affido minori e strutture di accoglienza, il caso Umbria. I consiglieri pentastellati hanno spiegato che le strutture di accoglienza devono garantire personale altamente qualificato e autentica competenza, ancor di più hanno detto a beneficio di minori diversamente abili. Ma non sempre è così in Umbria, in particolare è stata ricordata la vicenda del piccolo carro, una struttura, hanno puntualizzato, che ha operato senza avere i requisiti necessari. Per questo, hanno concluso, chiediamo che venga fatta piena luce su tutto quanto accaduto intorno al piccolo carro. Un tavolo con aziende e sindacati per la condivisione degli obiettivi, l'impegno della seconda commissione dopo una nuova audizione delle associazioni sindacali sull'avvertenza ex novelli. Vediamo. Istituzione di un tavolo in seconda commissione con aziende e sindacati per seguire costantemente tutte le problematiche della ex novelli e il rispetto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto anche dei lavoratori con alimenti italiani SRL gruppo Y. Auspicabile una nuova comunicazione e un migliore rapporto che possa portare a un confronto costruttivo utile al futuro di un'importante realtà produttiva che occupa oltre 300 lavoratori. Arrivare dunque alla predisposizione di un piano che dopo l'estate possa trovare l'approvazione e la fiducia dei creditori. E' questo l'impegno del presidente della seconda commissione Erosbrega, condiviso da tutti i consiglieri componenti dell'organismo di Palazzo Cesaroni al termine di una nuova audizione con i sindacati confederali e successivamente con Consal Fesica in merito alla vertenza ex novelli. Soddisfazione è stata unanimemente espressa per la firma del decreto da parte del Ministero della Cassa Integrazione straordinaria per area di crisi complessa. A tal proposito i sindacati hanno chiesto l'impegno della Regione affinché si possano trovare soluzioni per anticipare la Cassa Integrazione ai soggetti interessati. E anche in questo caso la commissione ha condiviso l'esigenza, impegnandosi in tal senso negli interventi dei consiglieri presenti. E' emersa la volontà di mettere in atto azioni propositive condivise, interessando alla vicenda anche le associazioni datoriali, fino al coinvolgimento anche attraverso un documento di risoluzione votato dall'Assemblea Legislativa di tutti i parlamentari umbri. Audizione in terza commissione del garante regionale dei detenuti Stefano Anastasia che ha tracciato un quadro generale sul sistema penitenziario nazionale e più in particolare su quello umbro. La situazione del sistema penitenziario italiano può essere definita nuovamente delicata. Dall'inizio dello scorso anno si è registrato un incremento a livello nazionale di circa 5.000 unità. Gli istituti penitenziari umbri al momento soffrono relativamente e questo anche per effetto di circostanze legate agli eventi sismici del 2016 per cui l'amministrazione penitenziaria a suo tempo ha dato disposizione di non trasferire detenuti verso gli istituti delle Marche dell'Umbria. Tuttavia, nonostante ciò, siamo arrivati comunque a livelli di capienza massima e in alcuni casi leggermente superata. L'ha detto in terza commissione presieduta da Tilio Solinas il garante regionale dei detenuti Stefano Anastasia, eletto nell'aprile 2016 dall'Assemblea Legislativa per quanto riguarda il dato nazionale di rapporto tra detenuti e personale di polizia penitenziaria, è del 64,2%. Ogni 100 detenuti ci sono in sostanza, mediamente, 64 unità di polizia. In Umbria questo dato mostra maggiori criticità ad Orvieto, 59,6% e a Terni 54,2%. A Spoleto, invece, è la presenza di polizia penitenziaria anche per la storica conformazione dell'istituto del 74,9%. Dalla relazione di Anastasia è emerso che sono 1.399 i detenuti negli istituti Umbri, le situazioni più sensibili e difficili si verificano in quelli di Spoleto e Terni, dove vengono trasferiti detenuti soprattutto in alta sicurezza dalle regioni meridionali. L'istituto di Orvieto, per le sue particolari caratteristiche di custodia attenuata, risulta non completamente occupato, mentre quello di Perugia copre esattamente la capienza regolamentare, ma in base alla tendenza nazionale nei prossimi mesi la situazione potrebbe aggravarsi anche in Umbria. Il garante ha tenuto a sottolineare che l'Umbria ha sofferto in modo particolare le difficoltà della riorganizzazione predisposta dal Ministero della Giustizia a livello territoriale, che ha portato alla soppressione del provveditorato dell'Umbria, accorpandolo a quello della Toscana. In ultimo Anastasia ha precisato che le principali doglianze che arrivano da parte dei detenuti, ma anche dalla personale e dalla dirigenza, si basano sul fatto che nello scorso anno e a tutt'oggi non è stata programmata attività professionale all'interno degli istituti, grazie comunque alla quota di fondi destinati alla formazione per l'inserimento lavorativo in alternativa al carcere. La componente di persone che lavora all'esterno è aumentata nel corso del 2016 da 8 a 21 unità. Il Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale ha ascoltato a Palazzo Cesaroni l'amministratore unico del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra sull'attività della struttura. Vediamo. Il Comitato di Monitoraggio e Vigilanza, presieduto da Raffaele Nevi, ha ascoltato in audizione l'amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Alberto Natichioni, che ha illustrato attività, bilanci e programmi del Consorzio tra enti pubblici che opera nel campo della formazione. L'iniziativa era stata sollecitata dalla consigliera Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle e, come ha ricordato il presidente Nevi, rientra nel normale programma di attività di controllo che il Comitato svolge sugli enti partecipati dalla Regione. La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ha spiegato l'amministratore unico Natichioni, ha un bilancio annuale di previsione di oltre 3.870.000 euro. La gestione 2016 si è chiusa con un avanzo di 930.000 euro. Sono più di 12.800 le ore di formazione erogate, che hanno coinvolto 18.000 partecipanti. Oltre 100 le convenzioni attivate con i comuni Umbria di regioni limitrofe, 12 i dipendenti e 7 i collaboratori a progetto. Sanità, terzo settore, pubblica amministrazione, polizia locale, agenda digitale sono i filoni principali dell'attività formativa della scuola. I consiglieri regionali della Lega Nord, Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, hanno illustrato in una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni l'esposto sulla moschea di Umbertide presentato alla Procura della Repubblica di Perugia. L'atto chiede l'immediata sospensione dei lavori, il sequestro del cantiere in attesa di controlli urbanistici e di sicurezza, verifiche sull'itere dell'alienazione dei terreni e sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I due esponenti del Carroccio chiedono chiarezza sulle procedure, in particolare quelle edilizie perché un minareto alto 13 metri, hanno detto, non può essere considerato un vano tecnico. Hanno anche annunciato che riporteranno in aula la richiesta di moratoria alla costruzione di moschee su tutto il territorio regionale. Un omaggio augurale per una pronta rinascita, la Presidente Porzi ha consegnato alla comunità degli abitanti di Castelluccio una artistica riproduzione di un dipinto ottocentesco raffigurante la frazione montana dei Monti Sibillini. Ce ne parla Tiziano Bertini. La Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, in occasione della festa del patrono San Vincenzo Ferreri, ha consegnato ai rappresentanti della comunità di Castelluccio di Norcia una artistica riproduzione di un quadro dipinto dal pittore perugino Matteo Tassi nel 1889, raffigurante l'abitato della piccola frazione montana, con un gruppo di escursionisti del club alpino di Perugia che, a piedi e a dorso di mulo, vi si stanno dirigendo. La Presidente ha spiegato che il dono dell'Assemblea Legislativa, nel giorno della festa del patrono che riunisce tutti i castellucciani, vuole essere un piccolo omaggio della comunità degli Umbri agli abitanti di Castelluccio, un augurio di pronta e rapida rinascita per un futuro che restituisca questi luoghi ai tanti che li amano, agli abitanti in primo luogo e poi ai moltissimi che negli anni hanno conosciuto ed apprezzato questi splendidi luoghi. La riproduzione del quadro è stata consegnata ai rappresentanti della comunità di Castelluccio nella tenso struttura allestita a ridosso dell'abitato che è completamente distrutto dal sisma dello scorso anno e ha partecipato anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. L'iniziativa, come ha spiegato la Presidente, è il frutto della brillante idea di Luciano Giacchè, studioso e profondo conoscitore della Valnerina e dei Sibillini, della generosità di Mario Bellucci, studioso ed editore che ha messo a disposizione questo bellissimo dipinto, e di Stefano Lazzari, titolare della bottega artistica Tifernate che ha eseguito la riproduzione con mirabile qualità artistica, utilizzando la tecnica pictografica da lui brevettata. Mario Bellucci infine ha ricordato che il dipinto di Matteo Tassi fu commissionato dal nonno Giuseppe Bellucci, scienziato, studioso di scienze naturali, appassionato alpinista che, amico di Quintino Sella, fondatore del club alpino italiano, fondò a sua volta la sezione di Perugia di questo sodalizio, e il quadro ricorda appunto la prima escursione sul Monte Vettore nel 1876 con partenza da Castelluccio dei soci perugini. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. E questa è l'ultima puntata, prima della pausa estiva, ci rivediamo a settembre con Telecru. Grazie e buona estate a tutti, e arrivederci.